E' il giorno che precede la partenza della edizione numero 88 della 6 giorni, l'edizione del centenario. La tensione è palpabile, il paddock si sta animando, entrano in campo davvero i piloti, i veri protagonisti, ma c'è qualcuno con noi che invece sul percorso tassativamente proibito ovviamente alle moto ha già invece fatto delle prelustrazioni ed è l'unico in questo momento che può farlo. Non ha bisogno di presentazioni, si chiama Gio Sala, è cinque volte, forse sei, campione del mondo, quattro volte vincitore della 6 giorni, dal 2000 da Cariano e adesso con un ruolo istituzionale all'interno della federazione internazionale come ispettore di percorso. Gio, intanto benvenuti in Sardegna, le prime sensazioni al volo. Grazie mille. Allora, appena arrivato in Sardegna ho già visto che gli organizzatori stanno lavorando con una motivazione incredibile, è evidente che vogliono fare di questo centenario un grande evento, quindi ho già trovato un buon fermento in tutto lo staff organizzativo. Tu nel corso del campionato del mondo ispezioni i percorsi e ovviamente dall'alto della tua grandissima esperienza dai dei consigli sulle modifiche, quella prova lì può essere sicura, quella necessita di una modifica, giusto? È corretto? Infatti io mi preoccupo di tutto quello che è uno standard di un percorso internazionale, sia la 6 giorni che il mondiale, in parole povere, quando l'organizzatore ha preparato il percorso io vengo a verificare e automaticamente se non ci sono modifiche da portare lo approvo. Il percorso di questi 6 giorni, ovviamente tutto il territorio della Gallura, 10 comuni coinvolti, grande attenzione da parte di tutti, c'è il desiderio di scoprire segreti per riuscire poi nella lotta contro il cronometro a strappare le posizioni decisive, ma Giosala è l'unico che ha potuto perlustrare questi percorsi appunto proprio in moto in veste istituzionale. Ti posso dire che il primo e il secondo giorno sono due giorni abbastanza tecnici, non sono particolarmente difficili perché praticamente gli organizzatori hanno voluto mettere a disposizione un paio di giornate per scaldarsi i muscoli e fare una gara abbastanza rilassata. Pensate veramente perché abbiamo 4-5 montagne da salire dove il fondo è particolarmente secco e viscido, quindi per i più capaci sarà una cosa abbastanza facile, mentre per i meno preparati ovviamente inizieranno già i primi problemi. Grazie Gio, allora entriamo giorno 1-2, lo stesso percorso che nel primo giorno viene percorso in un senso, nel secondo o nell'altro e cominciamo a parlare dello special test KTM di Pittu Longo, che speciale troveremo? La speciale di Pittu Longo è una prova speciale molto tecnica, innanzitutto perché è su un fondo molto inconsistente, terra praticamente dura mista a gravidia di sabbia con dei sassi smossi, ma soprattutto la difficoltà di questa prova speciale è la lunghezza. Troviamo una speciale molto lunga, che sale e scende da vari dirupi con attraversamenti di colline eccetera eccetera e quindi se per i primi ci sarà la difficoltà di non avere una traccia da seguire, per quelli dietro proprio per la consistenza del fondo diventerà più impegnativa per il grip che sarà molto limitato proprio in virtù della situazione meteo che abbiamo che è molto secca. Dal dopo la lunghissima special test KTM, l'altro è in località Marinella e lo special test comune di Golfo Aranci, puoi dirci qualcosa di questa seconda speciale? Sì, quella di Marinella purtroppo abbiamo un fondo inconsistente, è praticamente borotalico quindi c'è anche il problema della polvere per questa prova speciale in quanto è molto secca e il terreno poco compatto, questo porterà oltre alla difficoltà di avere la polvere, ci sarà anche la difficoltà che si scaverà molto. Quindi i piloti ripassando più volte perché ricordo che le speciali verranno percorsi al primo, secondo o terzo giorno si scaverà molto quindi un'eventuale difficoltà sarà la rottura del terreno, cioè le buche e i vari canali che si faranno e quindi questa sarà la difficoltà di questa prova speciale di Marinella. Terzo special test previsto per il primo giorno è in località Arzachena con lo special test in Dona, questa invece, questa terza che speciale è? Mi sembra di capire che andiamo sempre più su difficile, vediamo se proseguiamo così. Sì, perché purtroppo il terreno locale è veramente un terreno ostico, è abbastanza difficile trovare dei terreni di questa conformazione se non in Sardegna, infatti nel corso del campionato del mondo abbiamo una situazione molto diversa da questo, correndo Nord Europa o in giro così, questo secco, questo tipo di sabbia con queste pietre è abbastanza, quindi anche questa speciale sarà, a parte la lunghezza che ritroviamo, una prova speciale parecchio lunga, con gli standard piuttosto lunghi e oltretutto, come ripeto, sarà un po' più rocciosa e quindi questa sarà un po' la difficoltà di questa prova speciale. Il primo giorno poi, come riguarda le special test, si conclude a Montepino con lo special test Metzeler, allora, alla fine qualcosa di più facile per i più bravi o continuiamo in crescendo di difficoltà? No, guarda, sono sincero, non c'è niente di difficoltà, la difficoltà maggiore è veramente il fondo, gli organizzatori hanno cercato di creare un percorso dove i 600 e passa piloti possano transitare senza fermarsi o creare tappi che sarebbe una cosa problematica dell'avere dei passaggi troppo estremi. Allora, mentre vi ricordo che ovviamente il pubblico può accedere a queste speciali segnalate lungo il percorso in modo assolutamente gratuito, per confermare quello che diceva il grande Joe Sala, ieri un campione del mondo come Antoine Meaux ha detto, le speciali sono bellissime, il che vuol dire che forse avrà modo in qualche frazione di secondo di ammirare anche il panorama. Noi ringraziamo Joe Sala per il suo intervento ma soprattutto per averci portato le immagini esclusive del Camera Car delle prime speciali. E con questo l'appuntamento è per domani, ore 8.00, il primo pilota sarà uno svedese, darà il via alla sei giorni.